Ciao a tutti, sono Deadriano99 e benvenuti nel secondo episodio della serie di Tutorial su Blender. Se hai aperto questo episodio ma non hai visto il precedente, ti consiglio vivamente di guardarlo, questo perché molte cose che dirò faranno riferimento al primo episodio. Detto questo, prima di cominciare ecco un rapidissimo quadro generale. Nello scorso episodio abbiamo visto la struttura generica del programma, oggi invece ci incentreremo sulla prima finestra del programma, ossia la 3D View. In questo episodio imparerai come muoverti nella 3D View, come creare oggetti, spostarli, ruotarli, modificarli e tutte le opzioni importanti che servono per fare al meglio tutte queste azioni. Ti ricordo che stiamo partendo da cose molto basilari ma che costituiscono le fondamenta dell'animazione 3D, che è il punto di arrivo finale di questo corso. Cominciamo subito. Innanzitutto diamo uno sguardo alla struttura intrinseca della 3D View. Possiamo ritrovarvi tutti i paragrafi e gli scomparti caratteristici di ogni finestra. Guardiamoli insieme. Vi è lo spazio centrale, la barra inferiore, una barra destra e una sinistra, le quali, piccola digressione, possono essere aperte e chiuse rispettivamente con il tasto N e il tasto T. Possiamo inoltre notare che le barre laterali appena citate hanno diversi paragrafi che possiamo aprire e chiudere e in particolare la barra sinistra ha anche molte sezioni verticali. Infine vi sono il nostro bellissimo tasto per cambiare il tipo della finestra e la possibilità di accedere a numerosi altri comandi premendo da tastiera la barra spaziatrice. Bene, ora prendiamo in esame la barra inferiore e tutti i suoi comandi. Capiamo quindi come muoverci nella visuale. Per ruotare la visuale devi tenere premuta la rotellina del mouse, per spostarti nella visuale devi tenere premuti shift più la rotellina del mouse e per zoomare basta scorrere la rotellina. Il primo problema che si pone all'utente inesperto è il fatto che non si riesca a zoomare oltre ad un certo punto oppure che la rotazione sembri essere sballata. Introduciamo quindi un importante concetto quasi mai trattato nei tutorial di Blender. Ecco come funziona la navigazione nell'universo 3D di Blender. Immagina che ci sia una persona che sta in un mondo e che si muove in maniera particolare e ciò che vede lui corrisponde a quello che vedi tu sul tuo schermo. Familiarizziamo, chiameremo il nostro amico visualizzatore Fukutsuya. Quando ci spostiamo nella visuale cliccando shift più rotellina, Fukutsuya si sposta trasversalmente e fin qui niente di controverso. Fukutsuya ha però una particolarità. Quando zooma non zooma nel punto in cui noi guardiamo col cursore, perché Fukutsuya sa che diventerebbe strabico dopo 4 secondi a furia di seguire con gli occhi il vostro stramaledetto cursore schizzato. Quindi Fukutsuya fa una cosa molto intelligente. Invece di seguire il cursore, mantiene lo sguardo sempre fisso su uno stesso punto dello spazio, che coincide col punto centrale della scena appena entriamo in Blender. Fukutsuya quindi zoomerà verso questo punto immaginario spazio. È per questo motivo che non possiamo avvicinarci più di tanto a degli oggetti, perché Fukutsuya non zooma oltre quel suo punto centrale immaginario. Da ora chiameremo questo punto immaginario per semplicità orizzonte visivo, forse anche un po' impropriamente, ma noi basta soltanto identificarlo in qualche modo per non confonderci. Quando non riuscite a raggiungere col semplice zoom un oggetto è perché l'orizzonte visivo che Fukutsuya utilizza per zoomare è troppo lontano dall'oggetto. Questo suo comportamento si ripercuote anche sul funzionamento della rotazione della visuale, che noi facciamo tenendo premuta la rotellina. Fukutsuya non si limita a zoomare verso il suo orizzonte visivo, ma vi ruota anche attorno. E questa è una cosa importantissima da tenere a mente. Ma allora ti chiederai come tu possa fare a modificare la posizione dell'orizzonte visivo che di basse ti permette di ruotare e zoomare solo nei confronti del punto centrale della scena. Ci sono due metodi e uno non esclude l'altro. Il primo è quello di spostarsi strategicamente nella visuale. Quando voi vi spostate si sposta anche l'orizzonte visivo. Potete quindi usare questa tecnica pratica intuitiva per arrivare ad avere l'oggetto che volete modificare nella posizione migliore della schermata. Questa tecnica prevede semplicemente di muoversi lateralmente in questo modo, fino a quanto si desidera. Il secondo metodo è invece un vero e proprio comando. Sempre nel vostro NAMPAD a destra, cliccando il tasto punto, sposterete immediatamente il vostro orizzonte visivo al nucleo dell'oggetto che avete selezionato. Ed è questo un modo efficace di spostarvi in un punto lontano dalla vostra posizione corrente. Adesso, dopo aver dato largo spazio alle vicende di Fukutsuya, dobbiamo introdurre le entità della scena, gli oggetti. Iniziamo capendo come aggiungere un'entità nella nostra scena e quali sono i vari tipi di entità. Il tipo di entità più semplice è la mesh, cioè gli oggetti veri e propri, gli oggetti solidi, che noi andremo a modellare e useremo sempre. Ci sono poi gli oggetti vettoriali, che possono essere curve vettoriali o solidi vettoriali, e sono oggetti senza vertici, senza facce o spigoli, ma che definiscono la propria forma in maniera indiretta. I meta-oggetti che hanno la capacità di interagire fra loro nella maniera più svariata. Al contrario degli oggetti normali hanno quindi una forma che non dipende soltanto da come la si modella, ma anche dalla interazione che si genera fra un meta-oggetto e un altro meta-oggetto. I testi, le ossature, che sono formate da singole ossa, hanno la funzione di essere inserite all'interno delle mesh per poterne modificare la forma indirettamente e quindi propriamente animarle. Gli oggetti vuoti, che possono essere usati per gli scopi più fantasiosi, però per adesso ci basta sapere che sono degli oggetti invisibili nel rendering. La camera, che è diversa dal nostro punto di vista nella 3D View, è del punto di vista dell'animazione, la telecamera appunto che riprenderà ciò che inseriamo nella scena. Le luci, che ovviamente svolgono la funzione di illuminazione, e i campi di forza, che possono provocare effetti animati di vento, di attrazione e repulsione degli oggetti, creare turbolenze nell'aria, insomma roba fantastica. Escludiamo alcuni tipi di oggetti troppo avanzati per ora. Aggiungiamo per esempio una sfera. Prima di continuare ecco una piccolissima lista di comandi utili. Per eliminare un oggetto premete Canch, per duplicarlo premete Shift più D. Per selezionare o deselezionare tutto quanto premete il tasto A. Introduciamo adesso i comandi successivi, le modalità di interazione con l'oggetto. Esistono più modalità di interagire con un oggetto. Quella standard è la Object Mode, ed è quella che esamineremo oggi nei dettagli. Vi è poi la Edit Mode, la modalità che permette di modificare la struttura dell'oggetto, ed è quella che vi consente propriamente, parlando, di modellare. Vi è poi la modalità per scolpire, che vi dà la possibilità di modificare la struttura di un oggetto, non vertice per vertice, come nell'Edit Mode, ma con l'utilizzo di strumenti come pennelli virtuali, e in questa modalità diventa essenziale la barra di sinistra, ad esempio, nella quale compariranno, una volta attivata questa modalità, tutti gli strumenti inerenti alla modalità stessa, che vi serviranno appunto per scolpire. Piccola digressione, un'altra modalità importantissima è la Pause Mode, che è disponibile soltanto per gli oggetti di tipo statura. Essa consente di modificare lo stato delle ossa che compongono l'armatura. Dopo troviamo le modalità di visualizzazione, cioè come vedremo nella nostra 3D View gli oggetti. Le più note sono la modalità Wireframe, molto importante soprattutto per la modellazione, fa visualizzare tutti i bordi e i vertici, ma non le facce. Questa modalità è accessibile anche cliccando da tastiera il tasto Z, vi sarà spesso utile. Vi è poi la modalità Standard, Solid. Troviamo più in alto, aumentando sempre di più il realismo della visualizzazione, le modalità Texture e Material, ma per intenderci utilizzerete praticamente sempre la modalità Solid. In cima alla scala c'è la modalità Rendered, che mostra proprio come verrebbe quella parte di spazio che si sta visualizzando se è renderizzata. Essendo questa modalità molto pesante, conviene restringere il campo in cui essa è attiva, e ciò lo si fa cliccando da tastiera Ctrl-B. Vi comparirà quindi una croce con la quale potrete creare una selezione della visuale su cui volete attivare la modalità Rendered. Per attivare la modalità Rendered da tastiera, devi cliccare i tasti Shift più Z. Continuiamo, ma facciamo un piccolo salto. Adentriamoci maggiormente nella Object Mode. Ogni oggetto ha il proprio nucleo, il proprio centro, ed è quel piccolo pallino giallo attorno al quale appaiono quelle freccette colorate. A proposito delle freccette colorate, esse sono gli assi di traslazione e ti servono per muovere, quindi traslare un oggetto. In questa posizione puoi attivare gli assi di rotazione e gli assi di ridimensionamento. Puoi anche tenere attivi tutti i tipi di assi o una combinazione di essi, banalmente tenendo premuto il tasto Shift e cliccando. Per esempio la combinazione che per me è usuale è quella degli assi di traslazione più quelli di rotazione. Qui poi c'è la possibilità di selezionare il modo in cui questi assi vengono creati intorno alla figura. I tipi più importanti sono due. Global. Gli assi prendono come punto di riferimento gli assi fissi del mondo, appunto gli assi globali. E local. Il punto di riferimento per la creazione degli assi nella figura non sono più gli assi del mondo, ma gli assi dell'oggetto stesso. Gli assi creati seguiranno quindi la rotazione dell'oggetto. Studiamo adesso il punto di aggancio degli assi. Normalmente è Median Point, il punto mediano, cioè il nucleo dell'oggetto se avete selezionato un solo oggetto, oppure la via di mezzo fra i nuclei nel caso di una selezione di più oggetti. Sempre incentrandoci solo su quelli strettamente essenziali, troviamo poi la modalità di aggancio ad origini individuali, ossia anche nel caso di una selezione multipla, ogni oggetto della selezione ruoterà in base al proprio nucleo. Poi la modalità cursore 3D, cioè l'oggetto subirà le modifiche a partire dal cursore 3D. Ok, ma cos'è il cursore 3D? Il cursore 3D è quella schifezza che avrai già sicuramente spostato 200.000 volte sullo schermo cliccando freneticamente e ignorantemente col tasto sinistro del mouse appena entrato in Blender. Ma cos'è? In primis è il punto di spawn degli oggetti. Un oggetto quando viene creato, viene creato col nucleo coincidente col cursore 3D. Se ben utilizzato, puoi sfruttare il cursore 3D per delle rotazioni, traslazioni ridimensionamenti strategici. Abbiamo quasi finito per oggi, tranquillo figliolo. Accanto alla scritta Global puoi trovare quella serie di piccoli quadratini con il primo quadratino illuminato e con un pallino dentro. Ogni quadratino corrisponde banalmente ad un layer, un livello della scena. Creare più livelli è un modo per non appesantire troppo la scena e lavorare in maniera più fluida solo sugli oggetti interessati, oppure per dare un ordine alla scena. Per esempio, nel caso di questo progetto, in un layer tutti gli alberi, in un altro il prato, in un altro le lanterne, eccetera. Per spostare un oggetto da un layer all'altro, come già anticipato nello scorso episodio, devi cliccare M e selezionare il layer nel quale vuoi spostare l'oggetto selezionato. Infine c'è la funzione Calamita, che è molto utile soprattutto per le animazioni di Minecraft, o in generale in ogni tipo di progettazione di tipo geometrico. Quando è attiva, un oggetto sarà libero di muoversi solo metro per metro e non nelle vie di mezzo. Bene, per questo episodio è tutto. Come sempre, ecco qualche suggerimento per diventare sempre più autonomi. Comincia a spulciarti un po' di comandi presenti nelle barre laterali, soprattutto nella barra destra, puoi trovare comandi molto utili. Ti consiglio di concepire questo episodio soprattutto come un glossario di concetti, sul quale far affidamento, per esempio, ogni volta che non ricorderai qualcosa. Bene, detto ciò è tutto, grazie per la visione, ti chiedo di iscriverti al canale se il video ti è piaciuto, di mettere mi piace al video, insomma di sostenermi, perché sostenendomi puoi incentivarmi a fare video come questo anche in futuro. E fammi sapere in commento i tuoi giudizi, i tuoi eventuali dubbi o comunque mi piacerebbe sentire la tua opinione in merito al video. Chiedo scusa per il mal di gola e ciao!